Musica Buongiorno a tutti gentili delle spettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh, buona giornata ad Andrea Vignolini. È lunedì 20 novembre 2023, siamo pronti per leggere insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi con i titoli e le notizie del giorno. Partiamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura, la cronaca, la fuga è finita, arrestato Filippo, era in Germania a fermo, in autostrada senza soldi e benzina, le ultime terribili ore di Giulia. Anche i genitori dell'assassino alla fiaccolata, il padre sembrava il figlio perfetto, il papà della vittima, ragazze denunciate. Poi ci sono ovviamente gli articoli di commento, il primo di Beppe Servegnini che spiega Ma gli uomini non capiscono cosa proviamo dopo l'assassino di Giulia, rabbia, paura, frustrazione, stupore, beh non basta, troppe cose, gli uomini devono ancora capire. E poi, sempre sulla prima pagina del quotidiano del Corriere della Sera, vedete la fotonotizia a centro pagina, la lettera della sorella di Giulia, Elena, non chiamatele più mostri, sono i figli del patercato, abbracciata Elena dal padre Gino Cecchettino alla fiaccolata silenziosa in memoria di Giulia, ieri sera a Vigonovo. E poi l'intervista anche al Guarda Sigilli, il ministro della giustizia nordio, si deve educare a fare attenzione ai segnali spia, anche se in questo caso specifico non venerano stati o almeno tali da ritenere che ci fosse bisogno di un intervento, diciamo così, delle forze dell'ordine o di altri enti preposti. Centro pagina, Sinder da applausi, ma il re è Djokovic, ATP Finals, sconfitto dal numero uno del mondo al settimo titolo da maestro, questo spiega il quotidiano Il Corriere della Sera. E poi due notizie che riguardano la prima, ovviamente quello che accade sul fronte nel conflitto tra Hamas e Israele, ostaggi, l'accordo ora è più vicino, dirottata a una nave, l'annuncio da fonti in Egitto, si aprono spiragli sulla liberazione degli ostaggi a Gaza, un accordo sembra più vicino, continuano i raid israeliani nella striscia, gli hautini dirottano una nave nel Mar Rosso, vicino, allo Yemen. E poi sempre sulla prima pagina del quotidiano Il Corriere della Sera, Paolo Mieli firma un'editoriale molto interessante, l'ingiusta solitudine di Zelensky, tra le due guerre, quella russa-ucraina e l'atta, ovviamente quella tra Hamas e Israele, Zelensky attraversa uno dei momenti più difficili della sua vita politica, scrive Mieli, le munizioni stanno esaurendo, gli alleati, compresa la nostra Presidente del Consiglio, nella celebre telefonata burla con il comico russo, si intrattengono volentieri sul tema della stanchezza per l'eccessiva durata del conflitto. Il capo delle Forze Armate di Kiev, Valery Zalusky, in un irrituale intervento sull'Economist, ha denunciato la posizione di stallo in cui si trovano i contendenti, le sanzioni internazionali alla Russia, non hanno avuto ad oggi effetti apprezzabili. Da Kiev si procede alla rimozione di alti ufficiali senza che siano state date convincenti spiegazioni. Un aiutante di Zalusky è rimasto ucciso mentre giocherellava con una granata, pensava fosse un giocattolo regalato da un collega. Vengono alla luce casi di corruzione, come tempo fa quello del colonnello Borisov, arricchitosi rilasciando falsi certificati di esenzione dall'arruolamento. Qualche migliaia di giovani ucraini in età di leva prova ogni giorno e in molti casi riesce ad esperteale. Zelensky, l'eroico ex comico, passerà alla storia per essersi battuto contro un'aggressione che aveva portato i carri armati nemici fin dentro casa sua, alla periferia della sua capitale. Questa è la situazione in cui si trova in questo momento il presidente ucraino Zelensky. Andiamo sulla prima pagina del Quotidiano Repubblica, mentre sfogliamo ovviamente tutti i titoli della rassegna stampa che leggeremo tra poco. Il titolo di apertura del Quotidiano La Repubblica, eccolo qua, uguale al Corriere della Sera. Il killer aveva un piano, la fuga di Turetta finisce in Germania, senza soldi e benzina, si arrende alla polizia. Accettata l'estradizione, Giulia uccisa con 20 coltellate. Gli inquirenti lavoravano sulla premeditazione, usati scotch, sacchi e contante, scrive sulla prima pagina della Repubblica. Ha percorso oltre mille chilometri, poi sfinito e senza soldi e benzina, ha fermato la sua grande punto in una corsia d'emergenza dell'autostrada a 9 nei pressi di Bad Dürnberg in Germania, dove è stato arrestato. È finita così la fuga di Filippo Turetta. Il 22enne ha già detto sì all'estradizione in Italia, dove dovrà rispondere dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Anche la famiglia ha preso le distanze dal ragazzo, abbracciarlo sarà difficile, ha detto il padre. Il governo pensa di introdurre un'ora di educazione sentimentale nelle superiori e meno in rivendica di aver agito con tempestività. Arianna Farinelli firma l'articolo di analisi. Tutte vittime del patriarcato. Ogni volta che una donna muore per mano di un uomo, ci sentiamo svuotate, annientate, impotenti. Accade oggi per Giulia Cecchettin, che stava per laurearsi. È stato così per Giulia Tramontano, che stava per avere un bambino. Per Maria Causo, uccisa e gettata vicino ai cassonetti. E le migliaia di donne morte e ammazzate nel mondo ogni anno. Restiamo sulla prima pagina del Quotidiano della Repubblica con invece le notizie che riguardano la guerra al Medio Oriente. Il video che accusa Hamas, gli ostaggi nell'ospedale di Al-Shifa. Vedete proprio un rapito dentro l'ospedale di Gaza. E ancora i richiami in prima pagina con il tennis. Sinner non ce la fa, è Djokovic, il re delle APT Finals. Andiamo sulla prima pagina del Quotidiano della Nazione, con ovviamente tutti i titoli del giorno. Che sia l'ultima è il titolo di apertura. La fuga di Filippo Turetta si è fermata in Germania. Arrestato il papà di Giulia. Ragazze denunciate. Da questa vicenda deve nascere qualcosa. La sorella Elena mai zitta e attacca Salvini. La giovane uccisa avrà la laurea in migliaia alla fiaccolata. Anche i genitori dell'assassino. E poi scrive Agnese Pini nell'articolo di commento sul QN nazionale. Oltre le parole mettiamoci anche la faccia per Giulia e le altre. Sabato l'iniziativa del Quotidiano Nazionale. Non c'è più niente da commentare. Abbiamo finito anche le parole. Si sono esaurite. Morta dopo morta. Oltraggio dopo oltraggio. Umiliazione dopo umiliazione. Arrivati al numero 105. 105 donne uccise in 11 mesi. Abbiamo consumato le invettive e le recriminazioni. L'indignazione, l'esasperazione e la rabbia. Ci ho pensato ieri, mentre arrestavano in Germania l'ex fidanzato assassino Filippo Turetta. Ci ho pensato sabato, mentre recuperavano il corpo straziato di Giulia Cecchettin nel lago di Barchis. Ci ho pensato di tutti i giorni precedenti, mentre si cercavano due ragazzi scomparsi. E già sapevamo, senza avere il coraggio di dirlo ad alta voce, che Giulia era stata ammazzata. Non era sparita, scappata, fuggita. Giulia era stata ammazzata in quel copione che conosciamo a memoria. Cambia l'arma, un coltello, una pistola, un bastone, un veleno. Non vediamo mai il risultato. E poi, sempre ovviamente sulla prima pagina del quotidiano La Nazione, si accascia in campo la madre ambulanza dopo 40 minuti. Fucecchio, paura per un ragazzo alla partita. Questa è una notizia di cronaca locale che tra poco leggeremo sul quotidiano La Nazione. Andiamo avanti con i titoli del giorno. Lo facciamo anche con il titolo del quotidiano Il Tirreno, l'edizione quella di Firenze e Empoli. Ha arrestato Filippo, la fuga è finita insieme ai soldi e alla benzina. Il massacro di Giulia, l'assassino era in Germania, ha fermato, fermo in autostrada. E poi a Campi Visenzio, con la cronaca, il sindaco, lavori agli argini, fermi per la sovrintendenza. Più tardi, ovviamente, analizzeremo queste notizie. Le parole del sindaco di Campi Visenzio, Andrea Tadella Ferri, ieri durante un'assemblea pubblica con i cittadini, in cui ha attaccato la sovrintendenza, ha attaccato anche il Partito Democratico. Nei dieci anni di governo a Campi. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno, con le notizie che arrivano da Livorno. Ospedale Lascianiglio, primario del trasfusionale, spiega Il Tirreno di Livorno. E poi, vedete, istruttori abusivi in piscina, arrivano i vigili in borghese, sempre a Livorno. E poi a Piombino il ritorno dell'acciaio al piombo, una notizia importante che riguarda ovviamente il futuro delle acciaierie a Piombino. Andiamo anche sulle altre prime pagine velocemente. Libero, la verità sui femminicidi, che smentisce il Partito Democratico. In calo il numero delle donne uccise dai compagni, Italia sotto la media europea. Andiamo al giornale. Il titolo accusano il governo, boni il killer, gli sciacalli del femminicidio. Filippo arrestato in Germania, la sinistra punta il dito sul maschilismo veicolato dalla destra. Ma i dati la smentiscono. Nel 2023, meno donne vittime. Il fatto quotidiano, ostaggi, l'accordo è vicino. Bibi, Netanyahu, dichiara guerra a Biden. Stati Uniti e Catara annunciano l'intesa tregua in cambio dei rapiti. Poi andiamo anche alla verità sulla prima pagina. La CGL chiede i soldi per il Covid. Ecco le proposte del sindacato. Landini e i suoi mandano in aula emendamenti alla manovra. Tra questi l'incredibile richiesta di più assunzioni tra le forze dell'ordine per agevolare i controlli delle misure connesse all'emergenza pandemica. Questo è il paese che sognano. E poi sempre sulla prima pagina del quotidiano, il Sole 24 Ore, i principi dell'ESG, sostenibilità, scatta la corsa dei bilanci green. Obbligo a tappe dal 2024 al 2026. Il numero dei report è ancora ridotto, ma è raddoppiato del tre anni. Il 46% da piccole e medie imprese. Poi siamo ovviamente anche sulla prima pagina dei quotidiani sportivi di oggi. Il Corriere allo Sport Stadio. Vedete l'apertura. Match point. L'Italia a caccia del punto che vale l'europeo all'Everkusen alle 20.45. Basta un pari con l'Ucraina per qualificarci all'europeo. E poi il Corriere allo Sport Stadio, sempre nel taglio alto con la Fiorentina. C'è Beltrani in coppia con Zola. Fantasia viola. Italiano cambia. Prende quota una svolta. Il tecnico sta progettando il 4-3-2-1. Con González e Lex Lever alle spalle del centroavanti angolano. Questo spiega il quotidiano del Corriere allo Sport Stadio, delineando una nuova opzione tattica per quanto riguarda la Fiorentina. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano della Gazzetta dello Sport e chiudiamo la rassegna stampa con i titoli di oggi. Fate i campioni e il titolo di apertura. Gli azzurri si giocano all'Europa. Ucraina-Italia all'Everkusen alle 20.45. E poi Djokovic è il re. Sinnel il futuro. Caro Jannik sarà il numero uno. Nole domina e fa il record. Settimo trionfo nelle Finals poi esalta il nostro campione. Termina qua questa prima parte di Refresh con i titoli di oggi e le notizie del giorno. Restate con noi su Toscana TV e Firenze TV. Tra poco tutte le notizie di oggi che leggeremo dai quotidiani. Coop è felice di annunciare la nascita degli spesotti. La nuova linea con la qualità Coop. Super conveniente. Con ben 270 prodotti. Anzi, 271. Vieni a conoscerli tutti. La Coop sei tu. È dalla terra che si prende il volo. Per questo abbiamo sviluppato insieme a Sant'Anna di Pisa un piano di interventi a favore dell'ambiente e per la comunità. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno. Perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporto C'è l'influenza da principessa E' il raffreddore Hard Rock Vivi in C agisce rapidamente contro il raffreddore e i primi sintomi influenzali con vitamina C per le difese immunitarie. Per i tuoi E-C puoi provare Vivi in C. Naso chiuso. Trova acqua di sirmione. Scioglie il muco. Libera il naso. Idrata la mucosa. Elimina virus e batteri. Acqua di sirmione. Il più consigliato in farmacia. E' da sempre garanzia di efficacia 100% naturale. Acqua di sirmione. Una vera forza della natura. Come vorresti che fosse il futuro? Lo abbiamo chiesto a chi dovrà viverlo e costruirlo giorno per giorno. Noi di Estra ascoltiamo questi desideri e li trasformiamo in progetti. Chiedendoci quale pianeta vogliamo lasciare alle nuove generazioni. E la nostra risposta è... Quello che vorrebbero. Si può fare una poesia che parli di risparmi d'energia. Scopri come sul sito bilancio-disostenibilità.estra.it Sono iscritto in FIOM per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. Buongiorno a tutti gentili e rispettatori di Toscana TV e Firenze TV. Ben trovati a Refresh. Buona giornata ad Andrea Vignolini. È lunedì 20 novembre 2023. E siamo pronti a leggere, dopo aver sfogliato insieme le prime pagine di oggi con i titoli principali della giornata, le pagine interne dei quotidiani. Partiamo subito da pagina 2 del Corriere della Sera. Le pagine 2 e 3. La storia è quella ovviamente di Filippo Turetta, 22 anni, studente universitario padomano. Sabato 11 novembre ha sequestrato e ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin, con la quale aveva chiuso da mesi. Il corpo della ragazza è stato trovato l'altro ieri, in un dirupo. La fuga disperata per oltre mille chilometri. Portatemi in Italia. Filippo era fermo in autostrada, ora in carcere in Germaria. È stremato. Da Berlino a Monaco percorreva la strada dal nord verso sud. Gli inquirenti seguono le ultime tracce. Mille chilometri di fuga. Sabato sera fa rispenti in consiglia d'emergenza senza benzina. L'arresto è già convalidato e il mandato di cattura tradotto. La settimana più lunga, spiega il quotidiano Il Corriere della Sera. Tutto è iniziato domenica 12 novembre. Filippo trascina il corpo di Giulia in un dirupo di 50 metri dopo una curva a gomito nella strada panoramica della Val Caltela. non lontano dal lago di Barchis in provincia di Pordenone. Domenica alle 9 del mattino Filippo fa benzina in una stazione di servizio di Cortina e prosegue la sua fuga. Ma il giorno dopo lascia un'altra traccia alle banconote sporche di sangue. La sua auto, mercoledì 15 novembre, viene rilevata all'Inz. Filippo ha avvarcato il confine dell'Austria. La polizia austriaca ipotizza che il passaggio della frontiera sia avvenuto a Tarvisio. E poi vedete sabato 18 alle 22 si ferma a luci spente senza frecce sulla corsia d'emergenza lungo l'autostrada a 9 in Germania a Buddurrenberg. Aveva finito la benzina. La targa dell'auto di Filippo risulta segnalata nel mandato di arresto internazionale spiccato dal giudice di Venezia. E Filippo viene arrestato. Questa è ovviamente la ricostruzione della fuga di Filippo che poi viene fatta anche con tanto diciamo di cartina geografica sul Corriere della Sera di oggi. E poi intanto a Vigonovo per Giulia, folla e fiaccole, anche i genitori dell'assassino in coda al corteo. Sempre all'interno ovviamente del quotidiano del Corriere della Sera, la lunga agonia di Giulia dall'esame del video e delle lesioni, l'ipotesi che la ragazza sia stata caricata nel bagagliaio ferita ma ancora viva e poi uccisa, questo il lavoro degli inquirenti. Affossò la prima aggressione ripresa dalle telecamere, ferite su mani e braccia e il tentativo di difendersi. E poi le due reazioni, anzi le tre reazioni. La prima ovviamente di Gino Cecchettin, padre di Giulia, ieri alla fiaccolata con migliaia di persone, ci manca già tanto. Mi appello a tutte al primo segnale, denunciate subito. L'impegno come famiglia da oggi, noi ci impegneremo attivamente, facciamo qualcosa perché ha la possibilità ancora di stare al mondo. Le relazioni, qualsiasi avvisaglia, notate e abbiate il coraggio di confidarvi con chiunque vi possa dare fiducia e vi faccia sentire sicure. E poi sempre all'interno del quotidiano del Corriere della Sera, Gino Cecchettin e Nicola Turetta, travolti da un destino tragico, il dolore privato, la dignità, i ragazzi. Mi sembrava il figlio perfetto, quando lei lo lasciò disse Io mi uccido. Fatico a crederci, spiega il Nicola Turetta, padre di Filippo. Io e mia moglie non capiamo come possa essere successa una cosa del genere. Lui non è un mostro. Quando ho saputo che hanno trovato il corpo di Giulia, per un attimo avrei preferito che la cosa fosse finita, in un altro modo. E poi sempre all'interno del quotidiano della Sera, la politica e le scelte. Da Meloni a Schlein, shock e condanna. Le leggi antiviolenza arrivano in Senato. La Premier, avanti con la lotta alle barbarie, la segretaria del PD, ora una norma sul rispetto e affettività. Intanto il Parlamento europeo, il 10 maggio scorso, ha votato sì all'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione della lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Fratelli d'Italia e Lega in quell'occasione si sono astenuti e su questa è nata anche una polemica, ovviamente, per quanto riguarda la sorella di Giulia e il ministro Salvini. Intanto proprio la sorella di Giulia, Elna Cecchettin, oggi firma una lettera sul Corriere della Sera dove dice «Mostri, no, sono figli del patriarcato». E dice «Ogni uomo viene privilegiato da questa cultura che è la cultura, diciamo, dello stupro, che legittima ogni comportamento che va a ledere la figura della donna, a partire dalle cose a cui talvolta non viene nemmeno data l'importanza, ma che di importanza ne hanno e come. Il controllo, la possessività, il catcalling». Viene spesso detto, non tutti gli uomini, tutti gli uomini no, ma sono sempre uomini. Nessun uomo è buono se non fa nulla per smantellare la società che li privilegia tanto. È responsabilità degli uomini in questa società patriarcale, dato il loro privilegio e il loro potere, educare e richiamare amici e colleghi non appena sentono il minimo accenno di violenza sessista. Ditelo a quell'amico che controlla la propria ragazza, ditelo a quel collega che fa catcalling alle passanti. Rendetevi ostili a comportamenti del genere accettati dalla società, che non sono altro che il preludio del femminicidio. Il femminicidio è un omicidio di Stato perché lo Stato non ci tutela, perché non ci protegge. Il femminicidio non è un delitto passionale, è un delitto di potere. Serve un'oducazione sessuale e affettiva capillare. Serve insegnare che l'amore non è possesso. Bisogna finanziare i centri antiviolenza e bisogna dare la possibilità di chiedere aiuto a chi non ne ha bisogno. Così, ovviamente, Elena Cecchettin, sorella di Giulia, sul Corriere della Sera. Parla anche il ministro della Giustizia Nordio. Le nuove norme sono utili e non risolutive. Il ministro bisogna informare i maschietti dei rischi che corrono. Il problema è anche la sciatteria etica di questa generazione, spiega Nordio nell'intervista del Corriere della Sera di oggi. Ancora alcuni passaggi. La soluzione sulla repressione. Noi abbiamo dato il segnale che lo Stato c'è, ma la soluzione transita da una forma di rieducazione di giovani e adolescenti su questo tema per renderli consapevoli dei loro doveri verso le coetanee. E poi ancora i genitori. Occorre agire anche sui genitori. Oggi ai ragazzi si concede molto nelle scuole dove ogni giudizio è negativo. È visto come un'aggressione nelle famiglie dove si assecondano anche le loro inclinazioni più eccentriche. Andiamo avanti sempre con i titoli che riguardano questa notizia perché ce ne sono molte e le decliniamo anche a livello locale perché poi anche a livello locale viene ripresa questa notizia partendo innanzitutto da la battaglia della sorella di Giulia che è Elena che spiega nell'articolo del quotidiano La Repubblica la battaglia della sorella di Giulia inutile piangere e attacca Salvini il ministro dopo l'arresto di Filippo se colpevole nessuno sconto di pena l'indignazione di Elena Cecchettini il ministro non è sicuro della sua colpevolezza perché il ragazzo è bianco e di buona famiglia la replica vedete con Salvini che corregge il tiro dice ovviamente come prevede la Costituzione dopo una condanna stabilita in tribunale augurandoci tempi rapidi e nessun buonismo anche se la colpevolezza di Filippo pare evidente a tutti su questo ovviamente c'è stato un botto e risposta con Elena Cecchettini sorella di Giulia e poi l'altro tema è quello che viene diciamo così spiegato sempre da Elena Cecchettini la posizione sulla convenzione di Istanbul che ricordavamo prima che sulla quale la Lega si è astenuta all'Europarlamento e poi la testimonianza anche il mio ex era un bravo ragazzo mia sorella è morta io sono viva per miracolo la storia di Lucia Petrucci a Palermo perse la sorella Carmela che la difese dalle coltellate dell'ex e allora Repubblica diciamo si sofferma su quali sono i comportamenti che fanno presagire il pericolo innanzitutto il controllo sulle amicizie la pretesa dei ragazzi di mettere bocca sui rapporti di amicizia delle ragazze i messaggi e pedinamenti ritrovarsi il ragazzo sotto casa a scuola, all'università o al lavoro essere seguite negli spostamenti o ricevere raffiche di messaggi con la pretesa di sapere cosa si fa le videochiamate quando la pretesa di controllo diventa ossessiva spesso le ragazze ricevono la videochiamata in modo da poter dimostrare di essere veramente dove dicono le password condivise la richiesta di condivisione delle chiavi personali per accedere ai social media è una prova che sempre più ragazzi pretendono per poter avere il controllo sulle comunicazioni delle donne l'accesso al telefonino la pretesa del partner di avere libero accesso al cellulare o al computer per controllare le chiamate fatte e ricevute messaggi e chat o pagine viste è sempre da rifiutare e poi sempre all'interno del quotidiano il quotidiano Repubblica nelle scuole arriva l'ora per educare le relazioni il ministro Valditara vuole in aula psicologi e influencer mercoledì la linea guida contro il contrasto alla violenza di genere tre mesi di corsi alle superiori per insegnare anche le conseguenze penali campagna di comunicazione con gli sportivi e poi un hashtag che è diventato cioè o meglio un post che è diventato virale Valeria Fronte ecco com'è nata la mia frase virale sul bravo ragazzo Valeria Fronte su Instagram vedete ha detto è stato il vostro bravo ragazzo com'è nata quella frase? domanda Michele Bocci deriva dalla narrazione di questa vicenda da parte di media che hanno descritto Turetta appunto come un bravo ragazzo innocuo che studiava ingegneria e preparava Giulia Biscotti l'amava si è detto era gentile e riservato appunto un bravo ragazzo sono contenta che sia diventata virale non tanto per lo scritta io ma per Elena tutte le donne adesso forse dicono ok la violenza non è solo un problema di cattivi ragazzi ma anche di quelli bravi e così è trasversale perché culturalmente tutti siamo immersi nella mascolinità tossica questo l'altro aspetto della notizia e poi sempre all'interno dei quotidiani di oggi andiamo anche nelle pagine interne del quotidiano della nazione su questa notizia tanto c'è una notizia diciamo sul fronte universitario per quello che vale in questo momento il riconoscimento Giulia avrà la sua laurea la ministra Bernini per noi è già dottoressa perché mancava ovviamente soltanto la discussione della tesi ovviamente in ingegneria biomedica il governo e l'ateneo di Padova d'accordo sul conferimento del titolo il padre Gino in cuor mio è una cosa successa l'altro giorno se lo è meritato spiega il padre e poi sempre all'interno vedete del quotidiano la nazione alcune storie partiamo innanzitutto da questa notizia che arriva da Ponte d'Era accoltellata dall'ex diceva di volermi bene ma poi voleva uccidermi denunciate subito tutti la storia di Rossana scampata alla morte per mano di uno spasimante io fortunata rispetto a Giulia mai sottovalutare i segnali di pericolo a settembre mi aveva picchiata ma non pensavo che volesse addirittura ammazzarmi perché io lo avevo respinto e poi l'altra notizia da Firenze chat scritta ai volantini oppressione patriarcale a Firenze spuntano cartelli e si organizzano iniziative cambiare rotta subito e poi vedete c'è l'intervista al ministro dell'interno Piantedosi che spiega ogni femminicidio è una sconfitta per tutti serve più prevenzione il ministro dell'interno è in Parlamento un DDL che interviene su più fronti agire sul piano culturale ed educativo contro violenza e sopraffazione il pacchetto sicurezza contrasta reati che generano allarme sociale e poi andiamo avanti sempre con i titoli all'interno dei quotidiani locali siamo a pagina 2 del quotidiano della Nazione di Firenze Giulia uccisa come Michela qua si parla ovviamente della storia di Michela Noli aveva 31 anni la mamma non si rassegna provo rabbia e tanta tristezza il fatto nel 2016 l'hostess Fiorentina venne trucidata a coltellate dal suo ex che poi si tolse la vita sapere che è successo di nuovo mi fa sentire impotente penso allo strazio di suo padre anche noi quella notte aspettavamo il ritorno di nostra figlia adesso serve una legge che punisca chi omette di denunciare gli atti preparatori così il quotidiano della Nazione che poi ricorda che a Firenze c'è il primo centro d'Italia così curiamo gli uomini violenti con la pandemia c'è stato il boom l'identikit del paziente 44 anni la metà ha un lavoro il 40% è ancora impegnato nella relazione qualcuno si presenta volontariamente altri vengono inviati dai giudici per ottenere benefici sulla pena e ovviamente questi sono i numeri dei femminicidi in Toscana vedete il picco raggiunto nel 2014 con 15 6 nel 2021 i dati si ovviamente si fermano a questi all'anno del 2021 andiamo anche al quotidiano il Tirreno con ovviamente le notizie che riguardano proprio questo fronte e in particolare c'è la storia di un uomo in terapia di riabilitazione presso il centro lui a Livorno vedete questa intervista io incapace di gestire le emozioni fino a ferire la mia compagna il racconto di un uomo in terapia di riabilitazione ignaro di essere violento mio padre mi diceva che le donne servono solo per il sesso e fare figli e poi ovviamente il dato principale che in questa intervista racconta appunto tutta la sua storia sempre all'interno del quotidiano il Tirreno invece l'iniziativa che è iniziata ieri a Firenze al Teatro Verdi un minuto di silenzio per Giulia così inizia la Toscana delle donne dovremmo avere anche le immagini regia con ovviamente l'iniziativa di ieri che si è aperta al Teatro Verdi proprio con un minuto di silenzio per Giulia Cecchettini cultura lavoro e diritti in tutto 30 iniziative che appunto si terranno fino ovviamente nei prossimi giorni oggi il pensiero va a Giulia contro il femminicidio serve un cambiamento ha detto il governatore della Toscana Eugenio Gianni così è partita intanto la Toscana delle donne dal Teatro Verdi di Firenze che vedete nelle immagini che ci ha proposto puntualmente la nostra regia andiamo avanti sempre con i titoli del giorno e ovviamente le notizie di oggi lo facciamo ancora con le notizie locali che arrivano da Firenze e dalla Toscana torniamo sul quotidiano La Nazione con ovviamente i titoli del giorno la notizia che arriva da Fucecchio crolla durante la partita lo sfogo della madre 40 minuti per l'ambulanza Fucecchio 15enne in preda alle convulsioni si accascia mentre gioca ora sta bene se fosse servito un intervento salvavita non so come sarebbe finita il mezzo è partito da San Mignato Alto per di più non hanno capito bene come entrare nell'impianto allora raccontiamo questo pomeriggio di paura di sabato 18 novembre 2023 grazie alla grafica della Nazione siamo nel campo di calcio a C Giovani Fucecchio in piazza Pertini partita di calcio Giovani Fucecchio Tau Calcio di Alto Pascio alle 15.35 il baby calciatore di 15 anni si accascia a terra e l'albitro ferma il gioco alle 15.37 il responsabile del settore giovanile chiama i soccorsi quindi immediatamente dopo nuova telefonata di sollecito alle 15.50 il ragazzo viene poi soccorso alla misericordia di San Mignato gli orari precisi della Nazione sono stati forniti dal settore giovanile dell'associazione calcio Giovani Fucecchio e poi sempre all'interno dei quotidiani locali siamo sulla Nazione di Firenze spranghe e caschi agguato ai tifosi è il titolo d'apertura ai sostenitori del reconquista di San Piero Assieve aggrediti da una ventina di persone incappucciate l'episodio a compiobbri prima della sfida di seconda categoria con la Ludus 90 che però prende le distanze e poi nel fotonotizia centrale nervi tesi a campi assemblea infocata con 500 residenti danneggiati dall'alluvione il sindaco rilancia la sovrintendenza ostacolo ostacolò il progetto per l'argine della marina e poi l'emergenza sicurezza ancora spaccata con il tombino e danni alle auto sul Lungarno andiamo all'interno del quotidiano La Nazione con innanzitutto la storia di campi la resa dei conti i cittadini furiosi il comune attacca saremo parte civile il sindaco contro la sovrintendenza che aveva dato parere negativo a un progetto di rifacimento dell'argine della marina l'assemblea però è servita spiega il quotidiano La Nazione anche per spiegare cosa è successo in quelle drammatiche 48 ore a fare un confronto con la precedente alluvione del 1991 quando la pioggia fu durita in 5 giorni e ci fu il tempo di avvertire la popolazione mentre oggi la situazione è precipitata in tre ore ed è stato impossibile soprattutto per l'insufficienza di uomini e mezzi a disposizione avvertire tutti i ritempi necessari tante le testimonianze tra cui quella di Francesca D'Ortenzio avvocato una delle fondatrici di un comitato di alluvionati vogliamo creare una linea comune in modo che nessuno resta indietro parole che hanno trovato il riscontro positivo del sindaco che ha annunciato che da oggi sarà attivo in comune dalle 9 alle 18 un ufficio a cui rivolgersi per la compilazione dei moduli necessari per ottenere i rimborsi questo è sicuramente un dato interessante che riguarda appunto anche il sostegno che vuol dare il comune alluvionati per la compilazione dei moduli poi siamo ovviamente ad un altro fatto che arriva dai campi di calcio dei direttanti abbiamo letto di quella notizia da Fucecchio c'è anche questa notizia che invece arriva da Compiobbi colpi di spranga e volti coperti agguato ai tifosi mugellani prima della gara di Compiobbi i sostenitori del Reconquista squadra di San Perassievi aggrediti vicino al campo sportivo della Ludus cinghie e bastonate cinghiate e bastonate alcuni ragazzi sono contusi la Ludus 90 ha preso le distanze dall'episodio siamo andati in tanti circa una quarantina racconta ancora scosso il presidente della società mugellana Elia Parrini al momento dell'aggressione però erano arrivati in paese solo una decina di nostri ragazzi qui una volta scesi di auto si sono ritrovati letteralmente accerchiati da almeno una ventina di persone tutte con il volto coperto incappucciati che hanno aggrediti con cinghie casche e bastoni le auto sono state danneggiate anche qualche ragazzo ha riportato delle leve contusioni nulla di grave per fortuna gravissimo e semmai l'episodio la Ludus 90 ha ufficialmente preso le distanze dall'accaduto e si è resa subito disponibile a collaborare per ricostruire i fatti sui quali ora indagano i carabinieri andiamo avanti sempre con i titoli che riguardano invece Firenze siamo a pagina 7 la protesta dei cittadini che riguarda in questo caso il checkpoint di via Visconti a Firenze Sud tra topi rifiuti e bagni chiusi intervenga Palazzo Vecchio nel parcheggio di Firenze Sud ogni giorno arrivano migliaia di turisti la protesta dei cittadini vandalizzate panchine e tavoli servizi alla strada impiegato sette settimane per la derattizzazione è il titolo del quotidiano La Nazione andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano la Repubblica di Firenze vedete all'interno ovviamente con le notizie del giorno chi ci ripaga di questi danni la rabbia degli alluvionati tensione alla prima assemblea tra il sindaco di Campi e i cittadini che contestano dovevate metterci in allarme noi per primi saremmo voluti andare a suonare ogni campanello di casa ma questo era impossibile perché eravamo impegnati ad aiutare persone che già erano alluvionate avevamo persone bloccate nei sottopassi gente sulle rotonde con l'acqua che stava arrivando questo per dire che eravamo impegnati in soccorsi a persone che rischiavano la vita sono incazzato quanto voi ma cosa pensate che non fossimo incazzati quando non riuscivamo ad andare a salvare le persone è il momento in cui il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri si accalora questo spiega il quotidiano la Repubblica di Firenze e poi Villa Montalvo l'archivio ampi nel fango messo in salvo sulle carriole e portato nella ex GKN spiega il quotidiano una nazione di Firenze poi sempre sulla prima pagina PD e Renzi più lontani Italia Viva Saccardi è pronta sul no alle primarie e sul largo consenso per Sara Funaro fino ad ora pochi dubbi molte più pubblicità della base del PD fiorentino saltano invece fuori sull'opportunità di un accordo con Italia Viva un anno di liti attacchi a Nardella hanno lasciato il segno in molti segretari di circolo che stanno andando in pellegrinaggio alle consultazioni in corso al quartiere generale Demi in via Forlalini e arrivano esprimendo dubbi e alto là sull'alleanza con Italia Viva non che Renzi si scomponga per tutto questo sabato il senatore Renzi ha riunito i suoi a Firenze per un vertice e poi vedete sempre sulla prima pagina del quotidiano la Repubblica di Firenze mare toscano troppo caldo tartarughe e coralli soffrono e poi a Pisa bacia sul bus una minorenne sconosciuta arrestato lui 37 anni lei una ragazzina minorenne lui è stato arrestato ovviamente dalla polizia siamo ovviamente all'interno del quotidiano la Repubblica di Firenze con il faccia a faccia tra il sindaco tra gli abitanti e il sindaco chi ha accusa il comune di mancato coordinamento chi di non aver dato l'allerta tagliaferri metteremo di sicurezza gli arcini c'era un progetto del 2006 fermo per il no della sovrintendenza e poi nel taglio basso la notizia che invece riguarda la storia salvato dal fango l'archivio Ampi ora è disteso ad asciugare nella fabbrica dell'ex GKN il 70% era sott'acqua a Villa Montalvo alcuni dipendenti dell'azienda lo hanno trasportato sulle cariole abbiamo pianto ma ci siamo messi all'opera per recuperare quel pezzo della nostra storia spiega il quotidiano la Repubblica di Firenze e poi la notizia che riguarda la politica con le grandi manovre in vista delle amministrative del 2024 a Firenze l'articolo di Ernesto Ferrara che racconta i vari posizionamenti verso le elezioni amministrative il PD va avanti con Sara Funaro e Mugugna su Italia Viva Renzi Saccardi è pronta la base DEM non dimentica mesi di liti e le critiche al sindaco Dario Nardella quindi in questo momento non sembrerebbe esserci un accordo di coalizione tra Italia Viva e il PD e da un lato sembrerebbe ufficializzata per il prossimo 4 dicembre la candidatura di Sara Funaro a candidata a sindaco di Firenze del centro-sinistra mentre in questo momento Cecilia del Re continua a chiedere le primarie e soprattutto Matteo Renzi spiega che Stefania Saccardi è pronta a correre se la situazione è questa inoltre nel centro-destra qual è la situazione chi sarà il candidato Schmidt su cui Salvini e la Lega frenano o Basilichi per cui ti fa Forza Italia questa è la domanda che si pone in chiusura del pezzo Ernesto Ferrara poi ritorneremo ovviamente sulle grandi manovre in vista delle elezioni amministrative del 2024 a Firenze ma vedete nella notizia di Firenze Economia su Repubblica di Firenze un software made in Firenze misura quanto le aziende rispettano ambiente e lavoro la storia ovviamente di Valeria Sandei e Mircolali rispettivamente amministratrice delegata del gruppo Alma Wave e CEO e founder di The Data Appeal Company che raccontano appunto come le piccole e medie imprese possono verificare l'aderenza ai principi dell'environment social e governance significa opportunità di ottenere risorse e capitalizzazione questo è un dato molto interessante peraltro oggi proprio solo le 24 ore sui principi dell'ESG spiega che scatta la corsa dei bilanci green in questo caso diciamo la risposta di Alma Wave può essere una risposta importante andiamo avanti sempre con i titoli del giorno lo facciamo con anche le edizioni locali della Nazione siamo su Pistoia Montecatini il titolo di apertura situazione spaventosa vedete la foto con il governatore Gianni il presidente Gianni con la CNA in visita a Montale nella zona industriale devastata dall'alluvione e poi sempre all'interno situazione spaventosa il sopralluogo di Gianni tra le aziende montalesi il presidente della regione era stato inviato dalla CNA a vedere il disastro dell'alluvione milioni di danni a strade ancora non percorribili per il fango questo spiega il quotidiano la Nazione poi ancora sempre la Nazione di Prato le dimensioni del disastro vedete la CNA con il governatore Gianni visita alle imprese senza aiuti molte rischiano di non ripartire e poi cancellare le imposte comunali la ricognizione di confesercenti dopo l'alluvione tra le associate 120 aziende colpite e 1,3 milioni di euro di danni sempre all'interno del quotidiano la Nazione il turismo è la carta del rilancio non abbiamo perso l'attrattiva l'assessore Bosi spiega le strategie per il settore in provincia subito una mappatura degli operatori e poi quella che è la conta dei danni secondo confesercenti a Prato danni per 1,3 milioni colpite oltre 100 aziende il comune cancelli le tasse la ricognizione delle perdite causate dal nubefragio tra i soci di confesercenti bonfanti per i ristori non ci sia il limite della dimensione dell'impresa e proprio su questa notizia ci vediamo il servizio di Toscana Tg che è il numero 3 regia aiutare le imprese subito e concretamente per consentire la ripartenza dopo i danni provocati dall'alluvione del 2 novembre è la richiesta di confesercenti Prato più volte ripetuta nel corso dell'assemblea dei soci che si è tenuta stamani nell'auditorium della Camera di Commercio il presidente è stato chiaro Noi chiediamo a tutte quelle che sono le amministrazioni locali provinciali e governative una mano un aiuto perché veramente sono delle aziende il 17% pensate che non riaprirà più quindi il 35-40% ancora sta lavorando per cercare di riaprire poi il 45% invece ha continuato a lavorare e sta continuando a lavorare Appello dunque alle amministrazioni locali e al governo La Tari la rateizziamo perché è l'unica cosa che possiamo fare in questo momento per venire in conto per alleggerire quanto meno il carico su persone su famiglie ed imprese e nel frattempo chiediamo al governo rapidità per poter mettere nelle condizioni l'intero sistema Prato di ripartire rapidamente Il governo sta lavorando sta lavorando sulle misure da adottare è evidente però che prima di prendere qualsiasi tipo di decisione è necessario attendere che venga completata l'istruttoria da parte del commissario delegato su quelli che sono quello che è l'elenco dei comuni interessati Confesercenti ha messo subito a disposizione strumenti per aiutare i soci alle prese con il post alluvione Abbiamo messo in campo nel giro di 48 ore uno strumento finanziario che arriva fino a 20.000 euro con un preammortamento fino a 6 mesi che permetterà a tutte quelle aziende danneggiate di avere risorse immediate per ripulire di comprare merce di comprare la rete cioè ripartire Andiamo avanti con i titoli del giorno lo facciamo con il quotidiano il sito di Prato notiziediprato.it scusate sito molto seguito apprezzato notiziediprato.it vedete la notizia dei giorni scorsi accusato di aver palpeggiato ragazzine di una casa d'accoglienza 42enne indagato per violenza sessuale infatti risalgono ai mesi scorsi e sono trapelati grazie alle confidenze delle giovani vittime prima fra loro e poi con gli operatori sociali della struttura perquisita alla casa dell'uomo per il quale GIP ha emesso un divieto di avvicinamento alle ragazze restiamo sempre su Prato con i problemi del distretto è una situazione spaventosa Gianni visita le imprese alluvionate è stato in alcune delle 22 aziende associate a CNA necessaria la creazione di una commissione di esperti spiega il governatore della Toscana andiamo adesso all'interno del quotidiano il Tirreno intanto con le pagine regionali vedete Tajani suona la carica ai suoi Forza Italia al 10% alle europee sulla manovra dice la miglioreremo in Parlamento sabato parte anche la stagione congressuale per arrivare poi all'assise nazionale a Roma il 23 e il 24 febbraio poi si occupa anche della manovra andare in pensione sarà più difficile ecco cosa cambia per i lavoratori totalmente in regime contributivo vengono modificati i requisiti per l'assegno anticipato con 64 anni di età e 20 di anzianità previdenziale e poi riscatti bonus e conguagli e il cantiere previdenza per alcune categorie c'è il rischio di subire tagli agli assegni ed eccoci qua alle novità delle pensioni queste sono molto importanti le spiega oggi il terreno in edicola riduzione del requisito importo minimo per la pensione a 67 anni di età e 20 di anzianità contributiva dei contributi puri che scende a 1 volta e mezzo l'assegno sociale e ad una volta da tale valore per i contributi puri c'è la possibilità del riscatto dei periodi di vuoto contributivo fino a 5 anni anticipo del conguaglio della rivalutazione del 2023 pari allo 0,8 la liquida di perequazione per il 2024 che per le pensioni superiore a 10 volte l'assegno sociale scende dal 32 al 22 e poi la modifica dell'aliquota di rendimento per alcune categorie di dipendenti pubblici con meno di 15 anni di contribuzione nel sistema retributivo e poi sempre all'interno del quotidiano il Tirreno siamo a Livorno il taglio alle pensioni dei medici fa la prima vittima Niglio lascia il centro trasfusionale dell'ospedale il primario ha dato le dimissioni vedete ovviamente nella foto l'ex primario del centro trasfusionale con un drone utilizzato per il trasporto di sangue e poi siamo sempre a Livorno serviti 130 pasti davanti al Duomo a Livorno la povertà in aumento ieri in piazza grande volontaria hanno allestito la tavola per i bisognosi della città Don Cantini della Caritas in tanti fanno fatica nonostante abbiano un lavoro e poi a Cecina rogo nella casa di un suo dipendente imprenditore paga l'hotel ai familiari il gesto di Elia per Modù rimasto quasi illeso il figlio invece è gravemente ustionato poi siamo a Rosignano ultimati i lavori di ripristino al fosso che ha allagato la RSA Vallesi della Bonifica era una prevista la manutenzione nel 2024 nella foto il bottro della sanguigna visto dalla strada regionale 206 siamo a Piombino invece con l'altra notizia che riguarda ovviamente le future delle acciaierie al treno medio piccolo test per l'acciaio domani l'ultima prova di una sperimentazione avviata nel 2019 saranno laminate 670 tonnellate di billette in due turni lavorativi e poi il vertice a Firenze sul futuro dello stabilimento cassa integrazioni oggi i sindacati incontrano il presidente Gianni questo è un passaggio importante sul futuro della ceiera di Piombino ci fermiamo per dare lo spazio alla regia torniamo tra poco con un refresh con i titoli dei quotidiani di oggi restate con noi buongiorno buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana possibili disagi in A1 tra Calenzano in via 1 variante verso nord in A11 troviamo rallentamenti tra Prato Ovest e il Vivio Colla 1 verso Firenze in Fipili possibili rallentamenti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandici uno sguardo al traffico ferroviario per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo il treno 18826 Chiusi Pistoia sta viaggiando con 44 minuti di ritardo e prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tramviari per la tratta Fortezza Libertà San Marco da quest'oggi al via interventi sulle alberature in Viale Milton e in Viale Don Minzoni tutti i dettagli sui nostri canali social muovere il Sintoscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze per ora è tutto buon viaggio il bar è tutto franzo la tabaccherella e la recepitoria uova colombe e panettoni e il pane fresco pure l'enoteca se ha proprio tutto allora è il bar Valentina Bar Valentina un solo bar per mille servizi Buongiorno a tutti la rassegna stampa tutte le notizie che arrivano dalla Toscana e da Firenze oggi è lunedì 20 novembre 2023 siamo all'interno del quotidiano il terreno di Firenze la notizia riguarda Campi Bisenzio gli argini non erano rinforzati la sua intendenza bloccò i lavori il sindaco Andrea Tagliaferri incontra i cittadini in un'assemblea molto partecipata c'erano 500 persone ovviamente che hanno registrato danni hanno problemi attuali a tornare nelle loro case pagano anche affitti salati che può permetterselo in questo momento si trovano fuori casa alcuni di loro e se la prende con la burocrazia la rabbia dei campigiani non ci avete avvisato in tempo siamo stati lasciati soli se ci sarà un processo non ci tireremo indietro e ci costituiremo parte civile così il sindaco Tagliaferri ma gentili degli spettatori voglio farvi sentire questo estratto dell'assemblea tra il sindaco Tagliaferri e i cittadini perché prima il sindaco Tagliaferri dice che per lui sarebbe facile dare le colpe a chi ha governato Campi prima di lui poi evidentemente ci ripensa nello stesso intervento e spiega che chi ha bloccato i lavori sull'argine del Marina è stata la sovrintendenza e che l'amministrazione di centrosinistra nei dieci anni precedenti non ha fatto niente il sindaco Tagliaferri lo vediamo insieme Massimo guardi per quanto riguarda il discorso per quanto riguarda il discorso degli argini eccetera per me sarebbe stata la cosa più semplice il giorno dopo per venire qui ed avere più applausi che invece di quelli che ci sono sarebbe stato facilissimo e cominciare ad attaccare egli e c'erano prima di me e prendere e farmi da gruppare ma io non lo faccio perché non è questo l'obiettivo io voglio guardare in avanti voglio lavorare per davanti e quindi sì sicuramente sicuramente ci impegneremo ci impegneremo per richiedere quest'aggine prego la difesa la difesa arginale la difesa arginale a livello allora su questo è chiaro come comune stiamo facendo stiamo ripercorrendo gli anni va bene e vedere che tipo di atti sono stati fatti eccetera la difesa arginale spetta al genio civile che non è il consorzio il consorzio spetta la manutenzione di alcuni corsi quel arginale e quindi la difesa arginale spetta al genio civile il genio civile è la regione va bene ma fermi tutti fermi tutti c'è e anche qui per onestà intellettuale anche se come dire sarebbe facile dire il contrario ma per onestà intellettuale ci sono un progetto del 2006 va bene per tutto il tratto arginale della marina è stato fatto in parte e risulta dai primi accertamenti che la parte del muro della marina di Villa Montalvo non è stato fatto per parere negativo della soprintendenza dei mani culturali è questo lei se voi lo volete sapere questa l'è la questa l'è la ma questo 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 no no io guardo hai ragione hai ragione hai ragione sicuramente se voi volete proprio e mi sbottoni sicuramente il comune di Arampi negli ultimi decenni non ha mai riesto di rimettere a posto e questo il sindaco di Campi Andrea Tagliaferri in un'assemblea ovviamente molto delicata non è capisco il sindaco questo non è facile affrontare anche i cittadini che in questo momento rivendicano le loro ragioni però è incredibile perché il sindaco dice sarebbe facile per me accusare quelli che hanno governato prima di me e poi alla fine insomma di fatto tradisce quello che aveva detto pochi istanti prima come avete sentito nell'intervento che abbiamo proposto saluto il parlamentare del Partito Democratico eletto del collegio uniluminale di Firenze Federico Gianassi buongiorno onorevole grazie per essere con noi grazie a voi dell'invito buongiorno che pensa delle parole del sindaco di Campi ma io capisco che è una situazione molto difficile c'è una città in ginocchio c'è molta tensione e lui ha un ruolo difficile però decisivo importante io credo insomma non posso dare lezioni anche perché non ho fatto il sindaco ho fatto però l'assessore per tanti anni il presidente di quartiere la mia esperienza mi insegna che quando c'è un momento di grandissima difficoltà e questo per la città di Campi è un momento di grandissima difficoltà è bene è utile che il sindaco il comune servino i ranghi servino le fila tengano unita una comunità che soffre più che farsi arbitri con la paletta in mano che danno i voti a tutti gli altri il comune di prima la sovrintendenza la regione io penso che ai campigiani serva che il comune il sindaco siano il loro punto di riferimento per la ripartenza per la ricostruzione per la messa in sicurezza per i risarcimenti per chi ha subito danni io mi permetto con grande rispetto di suggerire questo al sindaco entra in campo di battaglia ma per fare quello che serve da oggi in avanti per aiutare la tua comunità ci sono già troppe divisioni e tensioni al momento di riunirsi se invece la sfida è dare pagelle giudizi lo si può fare lo faranno in tanti lo faranno anche le autorità preposte ma io penso che i campigiani servono a un sindaco che li unisce e li porta fuori da questa situazione di disastro e ciascun livello istituzionale questo deve fare mi sembra che lo stia facendo la regione lo sta facendo la città metropolitana stiamo provando anche noi come parlamentari in questi giorni e il governo invece che fa e i parlamentari di maggioranza che fanno ma guardi devo dirle proprio per le stesse ragioni per cui invito il comune di Campi a diventare il punto di riferimento della partenza non il punto di riferimento delle polemiche per lo stesso motivo critico e biasimo il comportamento che ha assunto il ministro della protezione civile Musumeci che è arrivato a Campi anziché dire eccoci queste sono le risorse per i risarcimento ecco questo è il piano della ripartenza è venuto anche lui a darle pagelle e sostanzialmente agli artigiani e commercianti agli imprenditori ha detto che è colpa loro che non si erano assicurati prima insomma se siete in zone allusionabili assicuratevi e poi ha parlato di mancate pensioni lui che pure fa parte del governo che ha già rinunciato alle risorse del RR contro il disastro idrogeologico io penso che il governo debba mettersi a disposizione delle comunità locali mettere i soldi che servono per la ripartenza e supportare le autorità locali e regionali per la ripartenza cioè questa è una sfida che deve unire il campo delle polemiche che occupa troppo spesso la politica lo si lascia ad altre questioni in questi casi quando la gente ha perso tutto ha bisogno dalla politica e dalle istituzioni generosità disponibilità e unità noi in Parlamento abbiamo ad esempio presentato come parlamentari di opposizione non governiamo però un atto per chiedere la ratizzazione dei debiti dei campigiani e dei toscani colpiti dall'alluvione perché ovviamente non sono nelle condizioni di assolvere agli oneri fiscali agli tributari devo dire c'è stato un po' di discussione una decina di ore di discussione però forse credo anche grazie ai nostri interventi risoluti alla fine tutte le forze politiche hanno dato il via libero e ora la palla passa al governo allora andiamo invece alle questioni che riguardano le elezioni amministrative che riguardano ovviamente in particolare Firenze nel 2024 eccoci qua oggi su Repubblica Firenze il PD va avanti con Funaro e Mugugna su Italia Viva Renzi Saccardi è pronta la base Dem non dimentica mesi di liti e le critiche del sindaco al sindaco Dario Nardella si spiega che il prossimo 4 dicembre dovrebbe essere ufficializzata la candidatura di Sara Funaro al sindaco di Firenze del centro-sinistra da diciamo il partito democratico fiorentino poi oggi anche il Tirreno ovviamente riprende i temi che riguardano proprio le candidature e spiega nell'edizione di Firenze lo vediamo insieme i circoli del PD dicono noi Italia Viva Renzi e i suoi schieriamo Saccardi i segretari chiedono più sicurezza ai supporti del re esclusi gli iscritti allora onorevole un po' di chiarezza innanzitutto per quanto riguarda il percorso cioè partiamo dalla data il 4 dicembre sarà la data diciamo in cui il partito democratico tirerà le fila e farà la sua proposta e farà la sua proposta di candidatura beh il 4 dicembre è stata convocata l'assemblea cittadina che è l'organo del PD che deve stabilire percorso metodologie regole per partecipare alla corsa amministrativa quindi è una data molto importante poi se è decisivo o meno lo vedremo il partito democratico sta lavorando sta lavorando anche molto bene su sollecitazione della base dei nostri circoli che avevano sottoscritto un documento e il partito cittadino ha preso una decisione della sua direzione l'organo esecutivo e quindi ha aperto un percorso di confronto con gli alleati per costruire la coalizione ha detto di non ricorrere alle primarie perché lo vede come uno strumento divisivo e lacerante e di attraverso le consultazioni insieme a tutto il partito e poi con gli alleati provare a capire se ci sono le condizioni per un nome largamente condiviso che possa rappresentare la coalizione centosinistra questo percorso è iniziato io stesso sono stato come dire al partito ieri ho visto che c'è presenza di persone che vengono consultate che dicono la loro ho fatto molto positivo che nasca dal basso della nostra comunità l'ipotesi della candidatura e anche come dire la costruzione della coalizione però ripeto l'organo sovrano è l'assemblea e quindi il 4 dicembre può essere una data molto importante anche per fare ordine rispetto a un percorso che chiaramente fisiologicamente è complesso ci sono sensibilità diverse anche obiettivi diversi ma che il partito sta conducendo con grande determinazione mi risulta che anche gli incontri con i potenziali alleati stiano andando bene ci sono stati nella settimana scorsa devo dire mi risulta che anche quello con Italia Viva è stato un incontro cordiale quindi le strade e le porte sono tutte aperte si vedrà nelle prossime settimane se ci sono le condizioni anche qui per compattarsi e fare una bella alleanza di certo sinistra che punti nel nome come dire dell'unità e della condivisione del progetto per Firenze a vincere le elezioni già al primo turno a giugno quando si terranno a Firenze posso essere chiaro e un po' preciso perché se fate la consultazione nei circoli nei circoli del PD ha vinto la corrente di Bonaccini a Firenze non quella di Elishlein che invece ha vinto poi alle primarie dove è scattato un meccanismo come abbiamo detto con lei anche col voto d'opinione quindi diciamo il candidato sarà dell'area riformista mi viene da pensare o sbaglio o è un errore ma guardi allora io ovviamente dentro il PD come dire sto nel campo dei riformisti e faccio battaglie ispirate da quelle visioni da quei principi però siamo tutti sotto la medesima casa la casa è quella del Partito Democratico e penso che in ogni città si debba scegliere il candidato migliore più forte più radicato per andare a vincere mi pare che a Firenze possa essere dell'area riformista però in realtà andando oltre perché devo dire stiamo incontrando come è giusto che succeda in una città sensibilità che vanno anche oltre poi le dinamiche congressuali e nazionali rispetto anche come dire ai nomi in campo io non posso anticipare nulla perché non sono il partito il partito sta facendo un suo percorso però insomma mi sembra che in relazione ad alcuni oi pensatori le salafonare ci sia un consenso ampio certo l'altro punto principale è quello della coalizione lei dice è andato bene anche l'incontro con Italia Viva perché qua capire come sarà composta la coalizione è importante anche per diciamo se ci sarà una coalizione tutto diciamo complessivamente unita che andrà diciamo dalla sinistra fino a Italia Viva oppure questo è da escludere o meno peraltro mi pare questa settimana è successo un po' di tutto perché addirittura i 5 Stelle hanno fatto una proposta di un loro candidato il professor Montanari che poi ha smentito la sua candidatura quindi insomma il tema della costruzione della coalizione non è banale no certamente no e ovviamente sta molto come è giusto che sia in capo al partito democratico è il partito più forte in città è il partito che governa la città che esprime il sindaco che esprime il presidente della regione che è Fiorentino quindi sta in capo ovviamente al partito democratico non mettere veti e provare a costruire un'alleanza unita e coerente ovviamente il partito democratico a sua volta non può subirne di veti quindi se si riesce a fare un percorso dove non si mettono veti e non si subiscono ci sono le condizioni per fare la coalizione se poi vengono posti i veti è chiaro che come dire ci si stringe la mano ognuno va per la sua strada però io resto ottimista e positivo sul fatto che si riesca a costruire una coalizione vincente che unisce anche sensibilità diverse che diventano una ricchezza e non come dire motivo di scontro Onorevole dalla sua ricostruzione ho capito che è un percorso che avviene all'interno dei circoli c'è un dibattito aperto ci sarà una sintesi il prossimo 4 dicembre molto probabilmente l'ISFAR ha fatto una sintesi anche sulla coalizione e su un'eventuale candidatura mi pare però un po' diverso da come i giornali l'hanno raccontata in questi giorni con tanto di un accordo Nardella Giorgio cioè Dario Nardella sindaco di Firenze l'assessore all'ambiente Andrea Giorgio che rappresa quindi l'area riformista e quella di Ellie Schlein ma questa roba qua dell'accordo Nardella-Giorgio i giornali se la sono inventata di sana pianta? No non è che se la sono inventata l'ha detto Cecilia De Pe e mi l'hanno scritto e lo capisco anche insomma ovviamente ognuno deve cercare di utilizzare un po' anche gli argomenti narrativi che portano acqua al mulino della propria causa però è del tutto evidente che se si arriva a individuare una candidatura unitaria quella candidatura unitaria passa dalla condivisione di centinaia di persone noi siamo ancora partiti un po' diversamente da tutti gli altri molto strutturato e quindi ha come dire delle regole a cui tiene noi abbiamo 25 segretari di circolo che ogni giorno stanno nel territorio dicono la loro e abbiamo tanti eletti abbiamo gli assessori i consiglieri comunali i consiglieri quartieri i presidenti di quartiere cioè abbiamo una rete di uomini e donne che dicono la loro e quindi io molta stima ovviamente di Dario Nardella con il quale ho lavorato tanto e apprezzo il lavoro che sta facendo l'assessore Giorgio ma il sindaco di Firenze che viene candidato al partito democratico unisce migliaia di persone e non solo due pur importanti e quindi come dire devo dire sto registrando altro cioè sto registrando che in effetti ci sono molte persone che vogliono dirle a loro ed è giusto che sia così ed è un bene e si stanno sforzando nel nome dell'unità preferendo l'unità alle divisioni di trovare insieme un nome che possa essere largamente condiviso e possa rappresentarci alla sfida che ci aspetta una sfida molto importante grazie grazie all'onorevole Federico Gianassi deputato del partito democratico che è stato con noi grazie mille buona giornata e buon lavoro grazie a voi andiamo avanti con il tirreno c'è l'intervista al professor Marco Tarchi politologo e professore dell'università degli studi di Firenze che parla di Heike Schmidt possibile candidato del centro-destra Schmidt con lui si cerca un potestà straniero il centro-destra non ha creato una classe dirigente il politologo Marco Tarchi fa il punto sulle prossime elezioni comunali con il nome di Arashlein il PD fiorentino perderebbe tutti i moderati questo spiega il professor Tarchi intervistato ovviamente oggi dal tirreno la partita in regione è ancora aperta a condizione che l'opposizione sappia trovare la figura giusta poi siamo a Empoli sempre sul col tirreno Empoli dopo il rogo alla Pass la Time Net decide di traslocare l'azienda è rimasta fortemente danneggiata dalle fiamme vedete proprio nella foto anche il centro pneumatici potrebbe essere costretto a trasferire per un po' di tempo l'attività poi sempre all'interno del quotidiano il tirreno con ovviamente le notizie che arrivano da Prato bus nuovi orari tante proteste dopo la riorganizzazione del servizio dell'autorità toscana emergono le criticità pendolari studenti disorientati coincidenze che sono saltate e corse soppresse la percorrenza complessiva è rimasta la stessa pari a 7 milioni di chilometri nell'area pretese ma è cambiato il modo di utilizzare quei chilometri spiega il quotidiano il tirreno di Prato siamo a Grosseto con la notizia che riguarda invece la cronaca pugno in faccia nel parcheggio in ospedale un baby calciatore ferito un giocatore del Grosseto Juniores dopo la partita stava andando a casa con i genitori quando è stato raggiunto da un avversario sul posto la polizia e poi l'episodio avvenuto sabato nel tardo pomeriggio nel parcheggio all'esterno dell'impianto di Roselle spiega il quotidiano il tirreno siamo a Viareggio il vescovo alla giornata dedicata alle vittime sulla strada obbligo di responsabilità al tabernacolo di Bicchio la preghiera per chi è deceduto nei troppi incidenti che si ripetono in piazza Mazzini lo scooter di Elisa Pezzini morta nel 2015 iniziativa della Croce Rossa e vedete ovviamente ricordati anche due giovanissimi fidanzati che hanno perso la vita a causa dello scontro di luglio in Darsena nella foto Monsignor Paolo Giulietti ieri al tabernacolo dedicato alla Madonna dei ragazzi della strada e poi vedete la polizia stradale decurtati 2018 punti e 550 multe per velocità eccessive al lavoro dell'ultimo mese in collaborazione con lo staff medico in servizio poi siamo a una vicenda che risale al 19 giugno del 2022 non viene visitata dall'oculista e rimane cieca da un occhio dottoressa indagata per lesioni gravissime e omissione di atti di ufficio l'episodio ovviamente riguarda proprio quello che è stato detto a questa questa paziente 51 anni arrivata all'ospedale perché all'improvviso non vedeva più dall'occhio destro non è urgente dille che può tornare domani la mancata visita al Versilia e l'assenza del medico in ospedale sono diventate una querela e ora un avviso di chiusura delle indagini per l'oculista 45 anni di viareggio accusata di lesioni colpose gravissime e omissione di atti di ufficio è stato il procuratore generale facente funzione di Firenze Luigi Bocciolini a firmare l'atto che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio la vittima del presunto caso di malasanità è assistita dagli avvocati Francesco Paolo Arno e Filippo Frangioni nella sequenza dei fatti più che un sistema sanitario che non ha funzionato al centro delle contestazioni c'è il comportamento del sindaco poi siamo sul tirreno di Pisa ordinanza anti-alcol sospesa il comune cerca un piano B l'assessore rispetto il TAR ma il problema c'è valutiamo le alternative dunque questo per quanto riguarda l'ordinanza anti-alcol sono armi spuntate per le amministrazioni siamo sulla Nazione di Arezzo l'apertura il rancio della pace menù da chef per i soldati ucraini cuoco aretino in missione a Chieve e poi Natale 100.000 primo assalto domenica di folla in centro code ai banchi alle attrazioni negozi aperti orari non stop dei ristoranti questo per quanto riguarda la città del Natale di Arezzo che diciamo ha avuto un successo incredibile già in termini di presenze in questa prima domenica andiamo avanti con i titoli del giorno lo facciamo con la rassegna stampa sportiva e ovviamente tutti i titoli di oggi siamo sul quotidiano la il QS ovviamente della nazione c'è ancora domani Sinner cede solo a Djokovic Leclerc sfiora la vittoria questo per quanto riguarda Sinner e la Ferrari e poi la Fiorentina allarme difesa quanti dubbi per italiano Milenkovic è l'unica certezza per San Siro Enzola deve recuperare fiducia e condizioni all'interno vedete difesa allarme rosso reparto da ricenerare tutti i dubbi di italiano squalifiche infortuni e impegni delle nazionali quante difficoltà l'allenatore Viola deve fare i conti anche con scelte obbligate restiamo sempre all'interno del quotidiano la nazione con ovviamente Enzola passaggio delicato punta al riscatto a San Siro ma il coraggio non basta l'articolo di Giampaolo Marchini l'italiano lavora su due binari sull'aspetto mentale anche sul piano tattico indicative le gare di conference contro il Bologna ora serve una svolta spiega il quotidiano la nazione andiamo avanti sempre con i titoli del giorno lo facciamo ovviamente con le notizie sul Corriere Fiorentino Botti di fine anno è il titolo in prima pagina del Corriere Fiorentino nell'edizione tutta viola del lunedì nove partite in 34 giorni quello che si apre sabato con il Milan è un ciclo da brividi con i primi verdetti in Europa e in Coppa Italia e poi il Tour de Force e tre domande spiega Ernesto Poesio nell'articolo di fondo di oggi e poi un mese tutto di corsa con la gara di sabato a San Siro via un ciclo da brividi per la squadra d'italiano con i primi verdetti in conference in Coppa Italia dai rossoneri al Torino nove partite in 34 giorni e a gennaio c'è da volare a Ghedda per la Supercoppa italiana poi Jovic scherzi del diavolo il Milan è senza attacco con i viola toccherà a Luca cioè Luca Jovic potrebbe giocare titolare contro la Fiorentina scaricato in estate il serbo sta deludendo anche a Milano l'anno scorso segnò ai rossoneri sabato avrà l'opportunità di rifarsi dopo i fischi di San Siro ma Pioli ha il piano B Ocafor punta e poi la notizia che riguarda invece i personaggi Spalletti e Mazzarri i destini incrociati di due toscani con la panchina nel DNA Luciano è chiamato a portare l'Italia agli europei Walter a ridare lustro allo scudetto del Napoli nel taglio basso poi una parata di stelle a Castellani per gli alluvionati partita del cuore raccolti 41 mila euro show di Battistuta e di Natale un dovere esserci hanno detto entrambi due grandissimi bomber e poi la notizia che riguarda il Padovani 4 milioni da trovare per poter ospitare la Serie A oltre ai lavori pagati dal Comune ecco la cifra che spetterebbe al club Viola spiega il quotidiano il Corriere Ferrentino avviata la procedura per il strutturale e adeguare lo stadio di rugby poi ovviamente sempre nelle pagine interne dei quotidiani che riguardano ovviamente lo sport e il calcio andiamo anche all'interno del quotidiano la Repubblica di Firenze che invece si occupa degli argentini in Viola promesse e certezze dal Sud America è il titolo chi si prepara a sfidare il Brasile chi sogna una maglia da titolare contro il sabato contro il Milan continua la tradizione albi celeste in città e vedete nella foto le argentini della Fiorentina Lucas Beltran Gino Infantino Nico Gonzales e Lucas Martinez IV termina qua questo appuntamento di Refresh noi torniamo puntuali come sempre domani mattina a partire dalle 6.50 ad Andrea Vignolini a tutti voi l'agurio di una felice giornata alle quelli che si 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 Grazie.